I 70 anni di The Queen's sul trono saranno celebrati con un royal bash da record, la Gran Bretagna celebrerà i 70 anni al trono della regina Elisabetta II con il più lungo picnic all'ora di pranzo mai organizzato a Windsor. Questo è solo un elemento delle speciali festività natalizie di 4 giorni, il Windsor Big Lunch del 5 giugno segnerà il Queen's Platinum Jubilee e dovrebbe essere il più lungo mai tenuto. Battendo un record stabilito a Memphis, nel Tennessee, nel 2019. La regina Elisabetta II è la monarca britannica più longeva di tutti i tempi, quindi organizzare il picnic più lungo all'ora di pranzo sembra adatto all'occasione. Si dice che anche il tavolo da picnic che verrà utilizzato alla festa batta i record. Con una lunghezza di 500 metri, sarà 100 metri più lungo del precedente record di Memphis per il Festival Internazionale di maggio. Ha riportato The Telegraph. Lisa Hunter, l'organizzatore della festa, ha detto ai giornalisti, stiamo cercando di incoraggiare le persone a riunirsi il 5 giugno per dire grazie alla regina ma anche ai vicini, agli amici e alle persone che hanno fatto la differenza negli ultimi due anni. Circa 500 metri di tavoli da picnic è ciò a cui miriamo, che funziona per 1600 e poche persone. Questo è l'obiettivo, se riusciamo a renderlo un po' più lungo, è fantastico, ma è il minimo. L'idea è che tutti nella comunità, da tutti i ceti sociali, si riuniscano in una celebrazione. Gli organizzatori prevedono che oltre 10 milioni di persone in tutto il paese segneranno l'occasione con le proprie feste ed eventi di strada. Sperano che le celebrazioni saranno più grandi rispetto ai precedenti affari reali come il Giubileo d'Argento del 1977 e il matrimonio del principe Carlo e Diana nel 1981. I fornai di tutto il paese hanno anche il compito di creare un nuovo budino nazionale da abbinare al famoso piatto di pollo dell'incoronazione creato per l'incoronazione della regina nel 1953. Grazie a tutti.